Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Ronaraco, se preferite, in trasferta ancora a Bologna e sono qua per un video, anche se l'ho già fatto in quel di febbraio, riguardante l'evento di Future Tracks. Lo rifaccio in quanto adesso ci sono tutte le informazioni riguardanti le utilità dei PG, più ci sono tutte le info riguardanti l'evento, ho rivisto il video, non penso che sia adatto a essere riproposto per il Global, perché all'epoca ancora si sapeva poche cose, quindi faccio una versione rivista e corretta del video stesso, con in finale analisi delle due carte nuove. Allora, evento di Future Tracks, lo hanno messo prima di quanto doveva stare, in quanto l'evento che sarebbe dovuto esserci adesso era quello di Xenoverse, sta di fatto che hanno coltanto 15 giorni, pre-Gogeta, quindi non sanno che cavolo fare, quindi facciamo un casino ancora più grande. Cosa si può dire di questo evento? Evento importante che permette non solo di ottenere una nuova VR Int Super Saiyan che ancora nel Global è abbastanza carente, ma permetterà anche di prepararsi a ottenere le medaglie, almeno una parte delle medaglie, per evolvere il nostro caro Xenotracks nella sua versione LR con attacco globale. Evento che sarà diviso in due fasi, la fase 1 avrà gli stage da 1 a 9, la fase 2 avrà gli stage da 10 a 12 e andiamo a vedere un attimino come sarà strutturato. Allora, in questa guida, in questa analisi riguardante l'evento vi dirò gli stage importanti quali sono. Primo stage importante, stage 3. Nello stage 3 potrete farmarvi a SA10 Gohan fisico, non ne vale molto la pena, ma ricordatevi che sarete costretti a utilizzarlo in alcuni stage. Ergo, state un attimo attenti, potrebbe essere un'idea portarlo almeno un pochino alto. Se poi avete comunque dei team abbastanza forti, non dovreste avere problemi anche tenendolo basso e attaccando solo con gli altri. Stage 4. Nello stage 4 invece sarà quello in cui forse passerete più tempo in questo evento. Vi obbligherà a farmare le medaglie di Gohan, medaglie di Gohan necessarie allo Z Awakening di Trunks per portarlo allo stadio Super Saiyan e che serviranno in un futuro abbastanza lontano a evolvere Xenotrans. Non hanno un drop rate fantastico, ve lo dico subito. Partiamo dal presupposto che alla prima run a ogni difficoltà avrete il premio assicurato. Nel caso di un PG una copia, nel caso delle medaglie avrete una medaglia a difficoltà normal, due ad hard e due a Z hard. Tutte le altre però ve le dovrete sudare. Non mi ricordo alla prima uscita come fu il drop rate, ma alla seconda quelle di Gohan non erano proprio la cosa più bella da ottenere. Non uscivano, con 200 stamina ne usciva una. Quindi preparatevi abbastanza a soffrire, non poco. Successivamente abbiamo lo stage 5. Durante lo stage 5 invece potete farmarvi Trunks. Portatelo assolutamente a S10. È un ottimo PG, nonostante abbia una passiva abbastanza problematica, però lo andremo a vederne nella seconda parte. Stage importante, tre copie garantite, le altre dovete un attimo sudarvele. Stage 6, altro stage in cui potreste perdere abbastanza tempo. Al posto di farmare una medaglia vi garantirà di poterne farmare due, ovvero le medaglie di C17 e C18. Sono complesse a farmare? Ogni hanno abbastanza più possibilità di essere farmate rispetto a quelle di Gohan. Si faranno decisamente meglio. Non sapete però quale otterrete finché non finirete il livello. Quindi potreste finire in una situazione in cui le farmate 50 volte e vi escono solo C18. Perseverate e non dovreste avere troppi problemi. Stage 7, otterrete invece le medaglie di Vegeta Super Saiyan, sempre obbligatorie per portare trappi da Super Saiyan. E lo stage 8, le medaglie di Cell. Questi sono gli stage da farmare più e più volte sin dall'inizio. Vi garantiranno un buon numero di esperienza, qualche oggettino carino, ma niente di che. Vi ricordo che otterremo un numero considerevole di stone. Avremo per l'esattezza al completamento di ogni stage multiplo di 3 e del primo, quindi 1, 3, 6 e 9, la bellezza di una gemma a difficoltà. Per un totale di 3, 6, 9, 12 gemme. Facile, veloce e indolore. Nel JAP, e non sappiamo se nel Global sarà così, ma penso di sì, una settimana dopo l'uscita dell'evento sono stati resi disponibili ulteriori 3 stage, ovvero lo stage 10, 11 e 12. Questi stage presentano alcune particolarità. Prima particolarità sarebbe obbligati a utilizzare nel 10 Future Trunks, nell'11 Gohan e nel 12 o Future Trunks o Gohan. Potrebbe sembrare una bagianata, non vi ricordo, non abbiamo Gogeta. Gli stage a Zetard rischiano di shottarvi, sappiatelo. Inoltre sono abbastanza importanti. Lo stage 10 e lo stage 12 regalano altre 3 gemme per difficoltà, per un totale di 18 gemme farmabili dall'evento, che non sono affatto poche. Siamo sinceri, iniziano ad uscire gli eventi che danno 18-20 gemme l'uno, quindi impegno è tutto. Come se non fosse abbastanza, i stage 10 e 11 presentano la possibilità di farmare alcuni degli oggetti migliori del gioco. Parliamo di Ottone e di Future Bulma. Entrambi gli oggetti hanno la particolarità di ricaricare il 70% dei vostri HP. Inoltre Ottone aumenterà le vostre difese a riducere i danni del 30% per due turni, mentre Future Bulma aumenterà i danni che voi infliggete del 25% per sempre due turni. Il consiglio è farmarli a ogni costo, il più alto numero che potete ottenere. Tornano molto utili contro i 25 stamina e allo stesso tempo possono tornare utili contro i 40 stamina in cui avete difficoltà da mettere al posto di un eventuale senso o dende. Con questo abbiamo finito l'analisi dell'evento. Non è troppo difficile, vi ripeto, stage 10 Ottone, stage 11 Futul Bulma, mentre stage 12 se volete può fermare il draghetto, sempre che ne abbiate ancora bisogno. Ormai direi che a questo punto vi mettete a farmare Ottone più che il draghetto, però vi dà 3 gemme. L'evento tutto sommato non è difficile, è un evento abbastanza normale, possono dare difficoltà le Z-Tarde in cui dovete combattere sia 17 e 18, soprattutto le ultime, perché avrete un impendamento della difficoltà non da poco con i due Cyborg che davvero possono shottare o fare casini di proporzioni in mani. quindi richiede un attimo attenzione se non avete team troppo forti per riuscire a muovervi. Andiamo adesso dopo la solita pausa, piccola pausa tattica per riuscire a prendere le immagini, a fare una veloce analisi dei due nuovi PG che arriveranno, ovvero Future Gohan normale e Future Trunks di cui analizzeremo naturalmente solo la versione Int SSR. Un secondo solo e ci siamo. Rieccoci qua, siamo pronti all'analisi dei due PG, andiamo un attimo a vedere cosa ci porterà il primo evento della nuova tipologia, ovvero gli eventi in cui saranno disponibili, oltre a un numero elevatissimo di stone, anche un numero abbastanza decente di PG buoni. Iniziamo con Future Gohan che non è tra quelli sopra citati, le caratteristiche sono abbastanza scarse e un SR, però ricordiamoci questo. Il chi mettere nella norma, un 400, 12, 120, quindi niente di eccezionalmente esagerato, ma comunque un qualcosa di molto buono. Andiamo a vedere le caratteristiche. Abbiamo un attacco aumentato il 15% come leader, leader skill ormai superata e inutile. Non serve praticamente neanche ai giocatori nuovi ormai, stiamo entrando nel mondo del chi più tre. Preparatevi a questa mentalità. Se non ha chi più tre, il team non è all'altezza della velocità che avrà il gioco, ergo un leader abbastanza scarso. Passiva un pochino migliora ma niente di che, otteniamo un bonus del 20% attacco di difesa con gli HP superiore al 50%. Siamo davanti a un PG davvero scarso che siamo anche obbligati a utilizzare in uno o due missioni. C'è di meglio. C'è di meglio, bisogna un attimo farlo valere per riuscire a usarlo al meglio. Non è molto consigliato in praticamente nessuna situazione. Unico momento in cui potrebbe dirla sua, lo abbiamo nel caso abbia un SA10 durante i 25 stamina inter. Unico momento in cui davvero può servire. I link sono abbastanza scarsi, come vedete. Presente il nuovo Dismile Future, che da più uno ki però non è un PG abbastanza utile da valere davvero un farming. Se avete tempo da buttare e non volete farmarvi oggetti forti, farmatelo altrimenti potete benissimo lasciarlo dove sta. Passiamo invece al nuovo Trunks, versione SSR, quindi post-Doccan. Cosa possiamo dire di lui? Qua le cose migliorano abbastanza. Abbiamo statistiche abbastanza buone, niente eccezionale ma ricordiamoci, è un PG gratuito, non lamentiamoci. Non è un PG pullabile o alto, ce lo regalano così farmabile SA10. Quindi teniamoci. Key meter buono, un 400 e un 225, un 720. Scusate il rumore di mia madre che esce. Quindi, key meter ottimo. Leader skill, che nonostante non sia un Q3 può tornare utile in alcune situazioni, ovvero abbiamo HP, attacco e difesa degli inter, più 30%, inizia ad essere un qualcosa di abbastanza interessante, utile agli inizi, molti inizi del gioco, può dire la sua. La special, come potete vedere, arriva a dei buoni 30.000 danni, vi posso dire che in un team in cui è ben sopportato questo PG super da 100.000 danni, con la special SA10, bisogna però sopportarlo con Gogeta leader e con PG che sappiano il loro, altrimenti nada, sognatevi danni molto elevati. Nel caso però non potete supportarlo al meglio, saprà farsi valere. La passiva forse è quella che davvero rovina un po' il PG e lo mette in una taglia abbastanza bassa. Assiona un aumento dell'attacco del 50%, ma solo quando si affrontano due o più nemici, rendendolo di fatto inutile degli eventi che contano quali 40 stamina, 25 stamina, eccetera, in quanto affrontate sempre un solo nemico, almeno per ora. Non c'è ancora stato un evento che ne affrontavate due. D'altro canto questo PG potrebbe tornare non poco utile in alcuni eventi secondari, per esempio nel 40 stamina di Gogeta potete utilizzarlo abbastanza bene nella fase 1 per tankare e ammazzare Goku, Angel Tech. Avrà un aumento del 50% attacco, potrà picchiare il più forte e reggere. Un aumento del 50% attacco gli porta l'attacco praticamente a 10.000 che supportato bene gli permette di fare danni veramente elevati. Come Link Skill siamo nella base di un Super Saiyan di fascia bassa, Golden Warrior, Saiyan Age, Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, abbiamo poi Vegeta Family e Dismal Future che difficilmente utilizzeremo in un team. Tutto sommato come primo PG Wear gratuito non è affatto male, il reparto int dei Super Saiyan pena abbastanza, ma vi ricordo che tempo di un mese e mezzo o due arriverà il Gohan del Babashop e là potremo parlare di PG davvero buoni gratuiti int Super Saiyan. Detto questo la rivisitazione, chiamiamola, dell'evento di Trunks come video è finita. A questo giro è stato un video più completo in cui ho detto certezze, in quanto ormai l'evento nel JAP lo conosciamo più che bene. Spero vi sia d'aiuto e in bocca al lupo con il farming in questi ultimi 15 giorni prima di Gogeta. Alla prossima!